Un episodio raro e inquietante ha scosso la tranquillità di Castelnuovo Umano in provincia di Teramo. Francesco Tancredi, noto imprenditore agricolo della zona, ha raccontato di essere stato aggredito da un lupo mentre lavorava nei campi davanti alla sua abitazione intorno alle ore 20. L'agricoltore stava completando alcune operazioni nei terreni di fronte casa quando notato movimenti sospetti nelle vicinanze. Prima che potesse rendersi conto di cosa stesse accadendo, un lupo si sarebbe avvicinato e l'avrebbe attaccato. Un'esperienza che l'uomo descrive con una sola parola, terrore. Io mi trovavo in mezzo qui, proprio in questo posto, a riempire una botte per fare i trattamenti. Mentre la stavo riempiendo notavo che transitavano a 15 metri dal trattore due scrofe di cinghiale con dietro dei cuccioli. Saranno stati 10, 12, io preciso non lo so. Io contendo che loro transitavano veloci, dico se ne vanno via velocemente e mi sono rimesso a fare la miscela di fitosanitari. E all'improvviso dopo circa un minuto, non lo so, è tornato dietro un cucciolo seguito dalle mie spalle, seguito da due lupi. Uno ha avuto la meglio sul cinghialetto, l'ha agganciato e se l'ha portato via. E l'altro rimanendo spiazzato, fuori posizione dalla virata del cinghiale, praticamente mi ha aggredito. Tutto è successo a tre metri da me, ha frenato, si è girato intorno, mi ha guardato con gli occhi sgranati e mi ha aggredito, mi è saltato addosso. Prima mordendomi in bacia e poi sul braccio. Possiamo dire la fortuna era la presenza di suo cognato che era dentro il trattore che ha iniziato a suonare forte e ha spaventato il lupo che poi è scappato. Le fortune sono state tante, inizialmente che il morso che mi ha dato al viso non ha agganciato nulla. Quello che ha preso ha portato via, ha strappato e quindi non mi è rimasto agganciato. E poi ha cominciato a suonare. Io avevo un piccolo coltello in mano, ho cercato di difendermi alla meglio, però quello che è stato di più è stato il rumore, il clacson forte che il cortello poi è finito per terra nel scambiarlo dalla mano all'alto perché il lupo mi ha agganciato la mano in cui avevo il coltello. Poi il forte rumore del clacson, gli strilli di mio cognato hanno fatto sì che mi ha lasciato e è andato via. C'è un appello che vuole fare soprattutto alle istituzioni? Io quello che mi porto a fare questa denuncia è che i primi tre giorni non riuscivo a parlare, nemmeno a lavarmi i denti perché il labbro mi sanguinava, parlavo male. Io per far capire alla gente, a tutti questi signori che dicono che non sono i lupi, che sono i cani randaggi, venissero loro al posto nostro e li vedono con gli occhi. Ci accompagnano un paio di serate e vedranno se è un cane o un lupo. La paura però rimane? Io se sento un cane di abbaiare mi passano i brividi. Se è fresco, è una settimana che è successa e ancora non mi passa per niente la paura. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri forestali per verificare la dinamica dell'episodio e confermare la presenza del lupo. Nel frattempo la comunità chiede maggiori misure di sicurezza e interventi per tutelare gli abitanti e gli agricoltori della zona, affinché episodi simili non si ripetano.